Ecco qui, vi presento una nuova arrivata al Fusilbau. Fatti vedere, lei è Kira, è nata nel dicembre del 2014, perciò è una bella cucciolona e può darsi che le sue orecchiette verranno anche tirate su, chi lo sa. E lei è qui anche con la sua mamma. Loro arrivano da una situazione non troppo bella, però adesso qui sono felici e contenti sono un po' cicciottelle, è una cucciola, non potete pensare che sia sempre tranquilla. Eccola qua, è bellissima, gioiosa, piena di vita, voglia di morderla la vita proprio, ma è di una bellezza disarmante. Ha un musetto tenerissimo, questa cucciola, ma sembra tutto un pastore tedesco, ma guardatela. Lei è un incrocio, pastore tedesco, guardate che bella. La mamma, dobbiamo dire, ha avuto buon gusto nell'accoppiarsi, ha scelto bene, perché la mamma è meno pastore tedesco di lei, dopo ve la presentiamo. Però si vede che ha trovato un bel maschione, un bel esemplare, ha fatto veramente una bellissima cucciolona. Allora, lei si chiama Kira, si trova al rifugio Baudalpignano, ricordiamo che è una cucciolotta di sei mesi, quindi tutta da addestrare, guardate, giocherellona, super socievole, va d'accordo con gli altri cani, naturalmente se ne avete uno in casa è sempre meglio testare, però normalmente lei va d'accordo con tutti gli altri cani. Venite a conoscerla, perché questa meraviglia vale veramente la pena. Vi aspetta Kira e vi saluta, ciao!